bentornati ragazzi sono giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di cabral allora parliamo di cabral si vocifera che la lazio possa seriamente sottolineo seriamente riscattare cabral per una cifra dimezzata rispetto a quella di cui si parlava cinque mesi fa quindi dieci milioni quando quando venne preso si vocifera che la lazio possa riscattarlo per una cifra intorno ai 4 barra 5 milioni di euro allora ragioniamo con lucidità per quel poco che si è visto cabral non mi ha dispiaciuto per niente è un giocatore che ha fatto vedere buone cose però secondo me non può fare il vice immobile cioè non può giocare lì in mezzo al tridente offensivo è un'illuminazione che ha avuto sarri è una scelta che ha preso sarri che non mi ha mai convinto ok voi lo sapete io vado matto per sarri ragazzi però ecco questa è una scelta che a me non ha mai pienamente convinto nonostante poi cabral abbia fatto un gol in neanche tre partite che ha giocato quindi ecco questa statistica dà parzialmente ragione a sarri però a me continua a non convincere devo essere onesto secondo me se la lazio lo deve prendere sarebbe ottimo come terza alternativa tra gli esterni d'attacco che cosa intendo per terza alternativa la lazio ha come titolari zaccagni da una parte filipe anderson dall'altra la prima alternativa a questi qui è pedro la seconda alternativa deve essere luca romero come come dico da settimane il prossimo anno la seconda alternativa deve essere luca romero la terza alternativa potrebbe essere giovane cabral ok sarebbe un una scelta intelligente non a quella cifra ecco non a 4 barra 5 milioni per una per una terza alternativa sarebbe sarebbero troppi sarebbe sarebbe esagerato ok però ecco indipendentemente dal dal dalla questione economica sarebbe una scelta intelligente parliamo pur sempre di un calciatore di 23 anni che preso come preso individualmente è un calciatore interessante ok è un calciatore interessante ma non come vice immobile io io personalmente non lo vedo come vice adatto a giocare come punta lì serve una punta cioè lì serve una punta che nasca punta cioè a questo punto mi faccio andare bene l'acquisto di caputo che è un acquisto che non mi farebbe impazzire ma proprio per niente però a questo punto mi faccio andare bene caputo nonostante poi lui abbia 35 anni e cabral 23 quindi al livello di età non ci sarebbe storia però almeno caputo nasce punta ha sempre giocato come punta nel nel tridente offensivo tra l'altro del del sassuolo di de zerbi al centro del tridente offensivo e mi faccio andare bene lui ok a questo punto e scusate se mi ripeto se devo leggere di cabral se devo leggere di caputo vado a prendere lasagna dal verona ok se mi devo accontentare tra l'altro il presidente del verona setti è intervenuto su radio 6 ieri mattina e non ha escluso la possibilità che la lazio faccia due acquisti acquisti dal verona uno di questi due acquisti potrebbe essere quello di lasagna che è un calciatore che è sempre è sempre stato abituato ad entrare a partita in corso ad essere la riserva dell'attaccante titolare ad essere il fanalino di coda se così possiamo definirlo e ha sempre dato il suo contributo entrando a partita in corso insomma il suo importante contributo qualche gol lo ha sempre fatto l'ultimo tra l'altro molto bello alla lazio quel palo palo gol all'ultima giornata e a questo punto mi faccio andare bene lui setti ha parlato anche di simeone ma ragazzi con tutto il rispetto simeone non verrebbe mai a fare il vice immobile ok e tra l'altro se il verona dovesse riscattarlo dal cagliari la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro ma quando mai la lazio rispende 15 milioni di euro per il vice immobile con tutti i calciatori titolari con tutti i ruoli che devono essere coperti quest'estate con tutti i calciatori titolari che devono essere comprati nella prossima finestra di mercato estiva mi sembra follia mi sembra inverosimile quindi quindi a questo punto mi faccio andare bene a lasagna se devo leggere di caputo se devo leggere di cabral ripeto cabral non lo vedo adatto come vice immobile c'è in questi in questi mesi in quel poco che si è visto mi ha dato una buona impressione ma come calciatore ok come calciatore a livello tecnico mi ha dato una buona impressione non mi ha dato invece segnali positivi per quanto riguardasse l'adattamento a quel ruolo ok per quanto riguardasse l'adattamento a quel ruolo mi è sembrato sempre molto spaisato cioè lui ha sempre giocato nella sua carriera o come esterno destro d'attacco o come esterno sinistro d'attacco per questo vi ricevo terza alternativa cioè potrebbe essere un jolly in quel ruolo ma non come vice immobile poi oh magari ragazzi la Lazio lo riscatta dal dallo sport in Lisbona a 4 milioni 5 milioni e quest'illuminazione di Sarri si rivela essere un'illuminazione vera e propria stile Mertens ok però non sono molto fiducioso sotto questo punto di vista mi farebbe alquanto arrabbiare se la Lazio lo prendesse come vice immobile questa è l'occasione di prendere un attaccante come Cristo comanda una punta come Cristo comanda questo è il discorso che faccio ma ditemi che cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale se per caso non l'ho ancora fatto noi ci vediamo successivamente ciao ragazzi forza Lazio